ariete la caratteristica principale di questo momento è la congiunzione venere urano che si manifesta nel vostro segno e può causare un movimento improvviso in amore o eventi fortunati tutto appare eccitante e inusuale ma sarà probabilmente effimero toro buona forma vitale e voglia di movimento di seguire l'intensa attività mentale che ha sete di novità e conoscenze buone le relazioni e le eventuali trattative se ne avete in corso anche il fiuto commerciale alla sua parte di gloria gemelli dissonanze astrali compromettono la fluidità delle vostre giornate ma l'aspetto armonico di venere consente almeno di recuperare l'amore nella sua forma più spigliata e giocosa inusuale occasioni per chi è ancora solo tentazioni per chi è in coppia cancro effetti positivi per voi sulle questioni pratiche di carattere sociale e personale con una mobilità mentale che vi inclina a nuove conoscenze l'amore invece riserva ancora qualche perplessità forse eventi improvvisi che vi disturbano leone una sensazione di insoddisfazione potrebbe permeare questa giornata che vede un calo della forma fisica e poca lucidità mentale siete confusi e irritabili permane comunque un buon sostegno astrale che fa emergere forza di volontà e metodo vergine sole e mercurio in aspetto positivo trasformano il vostro approccio alle cose quotidiane aumenta il tono vitale e il desiderio di movimento fisico e intellettivo nella seconda parte della giornata la luna dissonante vi rende più nervosi non ascoltatela bilancia destabilizzati nelle vostre certezze dovete attraversare una fase un po' instabile nella quale non vi manca forza e tenacia ma avete dimenticato diplomazia e spirito accomodante a favore di un comportamento più deciso anche se poco convincente scorpione il periodo è foriero di qualche contrattempo non vi sentite accettati come vorreste e vi incupisce il fatto di non riuscire ad affermare la vostra personalità sole e mercurio in opposizione non offrono comodità e dovete rimboccarvi le maniche per ottenere risultati sagittario divisi tra questioni materiali di rigore razionale e tra fatti sentimentali scapigliati e inattesi a volte perdete il binario da seguire ma tutto questo accresce l'impulso vitale che cova dentro di voi e che ultimamente si era un po' affannato capricorno il momento enfatizza le vostre migliori qualità il sole armonico accresce la forma fisica ma il cielo astrale presenta altri aspetti benevoli che vi spingono ad agire a muovervi e utilizzare le capacità di relazione l'amore invece è adesso dispettoso e provoca alti e bassi acquario attualmente non siete molto presenti a voi stessi vi sentite talvolta disorientati da questioni che non riuscite a definire e un po' di stanchezza si fa sentire spesso la sfera amorosa è quella che vi distoglie dalle banalità e dai disagi con sorprese inattese pesci un evento casuale improvviso in ambito economico può portare guadagno o perdita c'è un movimento particolare a cui è bene fare attenzione in generale il vostro stato psicologico e fisico è buono con risorse intellettive e personali di primo piano buone stelle